ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere come eseguire il reset service su range rover sport seconda serie il modello è l494 prima di farlo vi ricordo se ancora non l'avete fatto di andare ad iscrivervi al canale attivare la campanellina così rimanete aggiornati su tutte le novità e i nuovi video in uscita e se questo video vi è servito non dimenticatevi di lasciare un bel like procediamo per verificare che effettivamente il service viene segnato all'interno del quadro strumenti andiamo ad accendere il quadro e accendiamo la macchina attendiamo qualche istante e qui ci comparirà l'avviso del service ecco qui eseguire manutenzione prima cosa da fare andiamo ad accendere il quadro una volta acceso il quadro andiamo ad aprire la porta la teniamo aperta e andiamo anche ad aprire il cofano anteriore lo teniamo aperto dobbiamo tenere il pedale dell'acceleratore e freno premuti contemporaneamente per 30 secondi sul quadro comparirà la scritta reset manutenzione togliamo i piedi dall'acceleratore e del freno ora posso anche chiudere la porta e vado a spegnere il quadro per 20 secondi passati 20 secondi andiamo a verificare che la spia si sia spenta vado ad accendere il veicolo e vado a verificare che la spia non si presenti più nel quadro strumenti come vedete l'avviso non c'è più bene ragazzi come avete visto l'operazione di reset del service su questa range rover sport seconda serie è stato un gioco da ragazzi vi ricordo se ancora non l'avete fatto di andare ad iscrivervi al canale attivare la campanella così rimanete aggiornati su tutte le novità e i nuovi video e mi raccomando seguitemi anche negli altri social facebook instagram e tik tok per questo video è tutto noi come sempre ci vediamo a un altro nuovo video ciao